Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando della giornata dedicata all'Europa, questo 9 maggio che si è celebrata anche in Consiglio regionale con diverse iniziative ma anche con atti concreti da parte dell'Assemblea legislativa Toscana. Vediamo. Questo 9 maggio, nel giorno dedicato all'Europa, il Consiglio regionale ha aperto la porta del Media Center intitolato all'ex Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, primaturamente scomparso che nella sua azione politica ha riacceso la speranza di costruire un'Europa diversa e migliore finalmente dei popoli. Tante le iniziative presentate durante la conferenza stampa dal Presidente dell'Assemblea Toscana, Mazzeo, con il Vice Presidente Stefano Scaramelli e il Presidente della Commissione politiche europee, Francesco Gazzetti, sono stati raddoppiati i fondi portati a 20.000 euro per il premio miglior tesi di laurea a David Sassoli e aumentato il numero dei vincitori da 3 a 5, il primo riceverà 6.000 euro, gli altri 4, 3.500. La scadenza del termine per partecipare è il 31 luglio e il tema per un premio che è stato istituzionalizzato con una legge dall'ultimo Consiglio regionale resta lo stesso, l'Europa, le regioni e i cittadini. Abbiamo voluto dire con forza che serve più Europa e che la Toscana vuole fare la sua parte. Tanti sono gli eventi, voglio ringraziare la Commissione Europa per l'importante lavoro portato avanti in questi anni. Ogni anno la festa dell'Europa cresce per far capire alle cittadine e ai cittadini quanto sia importante investire sull'Europa. Noi lo abbiamo voluto fare ricordando un grande uomo, un grande Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, con una legge ad hoc istituendo il sostegno alle migliori tesi di laurea che parlano di Europa. Lo facciamo con la presenza di Nala Malaschia che è stata un'attivista che a Tbilisi l'8 di marzo ha sventolato con coraggio la bandiera dell'Europa. Quella bandiera è segno di equità, di giustizia, di riscatto sociale, di più diritti e lo ha voluto fare con forza anche mentre gli idranti della polizia tentavano di allontanarla. E infine i nostri monumenti che saranno illuminati del colore della bandiera europea, l'azzurro, proprio nella giornata odierna, nella serata odierna e che vogliono mandare un messaggio, un messaggio di speranza perché l'Europa è prima di tutto speranza. Noi in questi anni abbiamo cercato di riempire di contenuti la Commissione Europa e nel rapporto virtuoso che è nato di condivisione, nel confronto tra posizioni politiche ovviamente c'è stata la possibilità di mettere in campo una serie di iniziative. Quelle che abbiamo presentato oggi servono a contrappuntare questo sforzo, quindi la nuova edizione del bando per le tesi dedicate a Sassoli, poi il coinvolgimento dei comuni per quanto riguarda l'illuminazione dei monumenti e poi la giornata del 16 con questo incontro con la signora Nana Malaschia che servirà a mettere in evidenza anche una volontà di rapporto con le questioni e con i temi che sono anche al di fuori dell'Europa, perché ci sono tanti paesi che osservano l'Europa caricando anche di aspettative e di speranze magari un rapporto con essa. Consiglio regionale impegnato anche nel sostegno alla popolazione ucraina colpita dal conflitto, tante le difficoltà, tanti gli aiuti da parte della Toscana e anche dall'assemblea legislativa come ha dimostrato l'ultimo viaggio compiuto dalla croce viola di Sesto Fiorentino insieme al consigliere Fausto Merlotti. Un'ambulanza donata al comune ucraino di Kernivzi, aiuti alimentari, farmaci e dispositivi di immobilizzazione per feriti consegnati in quattro diverse location. A Baia Mare in Romania in un centro che accoglie circa 800 profughi di cui 500 bambini in fuga dalle aree più critiche dell'Ucraina. A Kernivzi in una struttura che ospita decine di persone scappate dalla guerra. All'ospedale pediatrico e al campo profughi di Leopoli gestito dai salesiani. Questo il bilancio della settima missione in ucraina della croce viola pubblica assistenza di Sesto Fiorentino dall'inizio della guerra che è stata illustrata in Palazzo del Pegaso. In questi ormai 14 mesi dallo scoppio della guerra la croce viola insieme ai propri partner ha consegnato dai 40 alle 50 tonnellate di aiuti umanitari, generi alimentari in prima battuta e prodotti per l'igiene personale coperti durante la stagione invernale. I nostri mezzi hanno percorso da marzo dell'anno scorso oltre 40 mila chilometri e siamo riusciti a portare circa 25 volontari diversi in Ucraina che è una cosa molto particolare perché abbiamo verificato una grande volontà di partecipazione. Sforzo logistico enorme perché attraversare il confine ucraino, entrare in Ucraina durante il conflitto è tutt'altro che semplice e quindi ci siamo avvalsi di persone che ci sono state utili nell'aiutare le lunghissime barocche formalità doganali in ingresso in Ucraina. Questo vuol dire che abbiamo maturato circa 400 bolli sui vari passaporti e questo dà un po' la misura dello sforzo importante che è stato fatto. Noi abbiamo visitato e abbiamo portato generi alimentari e prodotti farmaci pediatrici quindi medicinali nella zona ovest dell'Ucraina quindi nella zona di Cervinzi al confine con la Romania e di Leopoli e onestamente la guerra non la si vede per i palazzi distrutti o diciamo altre situazioni similari di distruzione appunto che la guerra comporta. Però la percepisci ad esempio nella mancanza degli uomini tra i 18-19 anni e i 55-60 anni. La percepisci nella presenza dei profughi. Noi abbiamo visitato tre centri profughi tra Baia Mare e Romania al confine con l'Ucraina dove abbiamo conosciuto e ho incontrato il consul onorario Massimo Novali che aiuta le organizzazioni umanitarie le nostre associazioni nel portare appunto aiuti di ogni genere a questo centro profughi dove ci sono 500 bambini circa con le loro madri mancano appunto gli uomini che sono al fronte e poi il centro profughi a Cervinzi in Ucraina dove abbiamo anche consegnato un'ambulanza e il centro profughi a Leopoli gestito dai salesiani dal padre salesiano Don Andrei e dove si percepisce l'importanza dell'aiuto dell'Europa. Lì il campo è fornito di moduli attrezzati donati dalla Polonia e della Gran Bretagna. C'è una grande cucina da campo della regione mia Romagna e poi noi come regione Toscana, in questo caso gli amici e volontari della Croce di Vora Zestri Fiorentino con gli aiuti di generi alimentari. Torniamo ad occuparci anche di sanità e in particolare della graduatoria per gli operatori sociosanitari in Toscana con una mozione a tal proposito approvata all'unanimità dall'Aula. Approvata all'unanimità dall'Aula una mozione affinché gli operatori sociosanitari presenti nella graduatoria Estar siano assunti al più presto e nella quale sono confluiti gli indirizzi di vari atti di indirizzo presentati da vari gruppi consigliari. L'atto impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo così che vengano assunti specifici provvedimenti per consentire la proroga della scadenza della graduatoria relativa al concorso per l'assunzione di operatori sociosanitari prevista ad aprile 2024 e di limitare al massimo il ricorso al lavoro interinale. C'è una graduatoria della Regione Toscana all'interno della quale ci sono 2000 persone. Nonostante questa graduatoria ancora in essere, la Regione Toscana prende dalle agenzie interinali anche per fare lavori continuativi persone. Noi chiediamo e su questo il Consiglio si è espresso unanimemente quindi siamo molto soddisfatti di questo che si attinga dalle graduatorie aperte alla Regione Toscana che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale perlomeno soltanto nei limiti di legge quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che le 2000 e i 2000 OS in graduatoria vengono tutti assunti da parte della Regione Toscana perché il servizio sanitario regionale ha bisogno in questo momento di 2000 OS. Ma è una battaglia che nasce dal territorio. Io per primo ho avuto la forza di chiedere all'Aula in questa seduta di mettere in votazione questo atto. Tanto se ne parlava associazioni, sindacati sollevavano la questione, operatori stessi. C'è un'attesa incredibile di OS e di assunzione. quasi 2000 persone in graduatoria da più di un anno non vengono assunte, fra un anno scadrebbe la graduatoria. Io ho chiesto come capogruppo di Italia Viva di poter inserire in votazione nella seduta odierna questo atto. Poi c'è stata la condivisione di tutti i gruppi consigliari. Questo è positivo quando si trovano a un punto di convergenza su un testo così importante. Ringrazio l'associazione Noi Siena che è stata per prima quella che ha sollevato questa questione facendo proprio il grido di richiesta di tante donne e uomini in graduatoria a OS che vogliono lavorare per un sistema pubblico, vogliono un lavoro remunerato in maniera adeguata per la loro professionalità. Hanno studiato, sono diventate idonei in graduatoria rispetto a un concorso che hanno fatto e quindi hanno una legittima aspettativa che noi con l'atto di oggi chiediamo appunto possa essere rappresentata dalle aziende sanitarie che saranno chiamate a questo punto ad assumerle nello stesso tempo. Una graduatoria che può allungarsi nei tempi per consentire loro di essere assunte in maniera graduale ma comunque partendo già dalle prossime settimane. In chiusura lo sport con il gonfalone d'argento, la più alta onorificenza del Consiglio regionale è consegnata alla Savino del Bene Scandici, squadra femminile di volley che ha trionfato nella recente Cev Cup e che ha visto protagonista anche Veronica Angeloni che ha appena annunciato il suo ritiro proprio in Palazzo del Pegaso. Il più alto riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento, è stato assegnato alla squadra di volley femminile Savino del Bene Scandici, vittoriosa nella Cev Cup di quest'anno e qualificata per la prossima edizione della Champions League grazie alla seconda posizione conquistata al termine della regular season del campionato di Serie A1. Al successo della formazione fiorentina ha contribuito anche l'esperienza e il carisma di Veronica Angeloni, la pallavolista massese che all'età di 36 anni ha appena annunciato il ritiro dopo 22 anni di carriera da protagonista in Italia e all'estero, ha concluso la sua avventura nel migliore dei modi alzando al cielo un trofeo continentale. A fine stagione altre squadre mi hanno chiamata per giocare, però ho preferito, ho scelto di finire con la Savino anche perché volevo finire con una Coppa Europea, quindi un'altra medaglia e per la mia idea ho sempre scelto di finire quando sei ancora al topo, quando fisicamente sei ancora bene perché io in questi 22 anni ho anche ricordi di compagni di squadra più grandi che arrivavano a fine carriera veramente finite fisicamente. Mi è piaciuto dare questa immagine anche, lasciare questa immagine anche ai miei tifosi che sono tanti e sono da 22 anni veramente che mi seguono. È un grande onore, una cosa che non capita tutti i giorni e questa è una grossa soddisfazione perché noi ovvio lavoriamo soprattutto per ottenere dei risultati sportivi, però quando si vede che c'è questo riconoscimento che i nostri risultati danno questa soddisfazione anche a una regione poi importante come quella della Toscana è un premio per noi ulteriore al lavoro che facciamo e ai risultati che otteniamo. Mi è piaciuto sentire le parole come appunto, ho detto prima, dei valori, della passione, della vicinanza che abbiamo sentito da tutto questo pubblico, da Scandici ma anche dalla stessa città di Firenze e questa secondo me è una delle cose più importanti. Ma io credo che non ci sia una descrizione dettagliata su quello che potrà essere, abbiamo abituato bene, certo, quello abituarsi bene è sempre facilissimo. Io dico solo che vincere aiuta a vincere, è una frase scontata ma non è banale e quindi posso solo dire a tutti che ripartiamo da qui. Questi dunque erano i temi principali della puntata odierna, l'appuntamento è per la prossima settimana con la voce del Consiglio su RTV38, grazie per l'attenzione e buona proseguimento, arrivederci.